Nel salutare il nuovo prefetto di Agrigento avevamo auspicato tra le altre cose la ripresa dei lavori sul ponte Petrusa bloccati dall'emergenza sanitaria. Ebbene, la prefettura ha dato l'ok alla riapertura del cantiere e mettere così fine al calvario per gli automobilisti. Si torna a lavorare dopo 31 giorni di stop. C'è da dire che l'autorizzazione della prefettura risale a venerdì scorso e il nuovo prefetto non si era ancora insediato, ma possiamo parlare di bella coincidenza dal momento che era questione di ore il suo arrivo in città. Maria Rita Cocciufa, forte della sua esperienza e orgogliosa di essere una donna siciliana, si augura anche di poter essere veramente utile per la provincia di Agrigento. Spero, dice, di dare un contributo alla gestione delle problematiche di questa provincia che sono molto complesse. Questo è un territorio in sofferenza, afferma il nuovo prefetto. Di solito a chi arriva a guidare importanti uffici viene consegnato un promemoria di quelli che sono i reali bisogni della popolazione. Nel nostro caso la dottoressa Cocciufa dimostra di conoscere assai bene l'agrigentino ed è una speranza in più poter contare su un funzionario così disponibile pronto a dare una mano alla gente. Intanto, tornando alla questione del ponte Petrusa, diciamo che bisogna adesso arrivare a concludere i lavori e superare con responsabilità tutti gli ostacoli che dovessero ripresentarsi. in questo senso la politica faccia la sua parte.